siamo nel magazzino ricambi e materiali di consumo qui possiamo trovare i ricambi per tutte le torce mig e tighe di saldatura possiamo trovare i materiali tradizionali per saldatura ma anche soprattutto quelli speciali che serviranno sicuramente a risolvere tutte le vostre esigenze di saldatura detto questo vi invito a contattarci noi siamo l'elteco srl in via cordara 52 ad alessandria e ci occupiamo di tutte le province del piemonte comprese quelle della lombardia